La brava e simpatica Mara Maionchi torna nella favolosa giuria di X Factor Sarebbe stata pronta a rivelare questo fatto Nel corso infatti di un'intervista per il famoso Settimanale Grazia Avrebbe rivelato che sarebbe pronta a ritornare nella famosa giuria di questo talent show televisivo Accettando di per sé una sfida che sarebbe molto difficile Secondo più pareri, secondo più fonti Anche perché abbandonare un programma come questo può provocare veri e propri rispiacere Veri e propri indirebili dispiaceri Anche perché questa donna ha tra virgolette vissuto un'esperienza sublime Ma anche molto piacevole all'interno di questo talent show di spicco appartenente al mondo della televisione Ovviamente non si è parlato solo di questo Nel corso della piacevole intervista a Grazia A questo Settimanale Italiano Si è parlato anche un po' Per sommi capi della sua vita, della sua esistenza Dei suoi hobby e di qualche trascorso passato Un trascorso passato che però getta un occhio a un eventuale futuro Un futuro che mi auguro sarà più che flore, più che erosio, più che positivo Per questa magnifica, simpatica e piacevole donna italiana appartenente al mondo della tv Grazie, cari saluti a voi tutti E a presto